Pagina sportiva che dedichiamo dunque a un preview, quello di Varese Basket Academy, stasera in onda la puntata, ecco un'antecipazione. Pagina sportiva che dedichiamo dunque a un preview. Allora stiamo andando in Argentina, precisamente a Cordoba, dove abbiamo organizzato un camp con aiuto di procuratori locali, dove vedremo una quindicina di ragazzi degli anni 2004-2005 argentini, ragazzi che potrebbero avere la possibilità di avere un passaporto italiano. E quindi diciamo che il nostro scouting non si ferma all'Africa e non si ferma nei paesi dell'est come la Serbia, ma andiamo anche a vedere in Argentina se c'è qualche prospetto, qualche ragazzo futuribile da portare in Academy e entrare a fare parte del nostro progetto. Vedremo appunto questi 15 ragazzi e abbiamo deciso di andare direttamente giù noi per parlare poi eventualmente con i vari genitori e per far sì che tutto sia importante e fatto bene nella scelta di questi prospetti che possono venire anche da Sud America. Finalmente l'Academy della Palacanese Trovarese ha tesserato questi due talenti, Guindole e Vivaldo, playmaker, e Bosso Nigangaloic, ala, un esterno di due metri, più di due metri, due metri tre, due metri quattro, mentre Guindole e Vivaldo è un play che supera abbondantemente il metro e novanta, vero? Sì, sono due ragazzi che vengono appunto una realtà completamente diversa dalla nostra, vengono dal Camerun, sono stati consigliati da Stefano Bizzozi, il nostro coach responsabile tecnico, sono dei ragazzi che affrontano un viaggio, un'esperienza innovativa per loro, sono dei ragazzi che sono arrivati in maniera molto umile, in campo vedendoli giocare hanno un attrattamento di palla, un modo di stare in campo già importante, hanno dei fisici importanti e notevoli su cui costruire e anche per loro è una grande opportunità di inserirsi in un mondo occidentale, di poter frequentare una scuola, di crescere come uomini e come giocatori, il nostro programma prevede appunto di seguirli nella scuola, di dargli tutti quegli strumenti necessari per diventare dei bravi giocatori, ma soprattutto anche degli ottimi uomini, degli ottimi persone, insomma costruire quello che è la mentalità di un uomo. Ed è tutto anche per lo sport, grazie, arrivederci. Grazie